Sabato e domenica Albanella ospiterà la giornata promozionale dell'olio d'oliva, evento organizzato dalla Proloco col patrocinio del Comune. Le strade del centro accoglieranno locande a cielo aperto e stand che prepareranno tanti piatti tradizionali. L'evento sarà anche punto di incontro e confronto tra la domanda e l'offerta del mercato dell'olio d'oliva. Ci sarà anche la possibilità di effettuare trekking in collaborazione con l'associazione Mondus Vivendi. Verrà allestita anche Maria Camping. Domenica sarà possibile anche pranzare. Le serate verranno alietate da gruppi di musica popolare tra cui le Sette Bocche e i Silvestro Folk e lungo il percorso da tanti altri musicisti.